La Sala dei Grandi del Palazzo della Provincia ha ospitato la presentazione dell'edizione 2014 di Aspettando Arezzo Wave, manifestazione della quale l'amministrazione provinciale è parte importante, ma ascoltiamo prima il patron della manifestazione Mauro Valenti, poi sentiremo le parole dell'assessore Francesco Ruscelli. Sono progetti che ci fanno sentire sempre più vicini alla nostra città, sono progetti che sono pensati per i ragazzi che vanno alle scuole medie e superiori, come ho detto prima, aspettando Arezzo Wave, parte ufficialmente in questi giorni, porterà un gruppo a rappresentare il mondo della scuola media e superiore ad Arezzo Wave, porterà anche dei ragazzi ad avere una serie di informazioni per come si realizzano eventi. E poi abbiamo anche accennato al fatto che non solo i ragazzi delle scuole medie e superiori, ma anche con Kids Wave, ragazzi dai 9 ai 13 anni, avranno un'opportunità per Arezzo Wave, quindi un po' di progetti abbiamo in ballo. E rinnovandosi l'appuntamento con Aspettando Arezzo Wave, si rinnova anche l'impegno della provincia, dell'assessorata delle politiche giovanili, assieme anche a quello all'istruzione, su questa iniziativa che coinvolge così tanti ragazzi del territorio. Sì, questa iniziativa è nata molti anni fa, quasi 10 anni fa, 9 per la precisione, ed è nata appunto su input anche della provincia e l'idea era quella di dare un'occasione ai giovani delle nostre scuole, quindi alle band studentesche delle scuole della provincia di Arezzo, di poter avere una sorta di canale preferenziale per poter suonare sul palco di Arezzo Wave, in uno di quegli eventi che ha caratterizzato oramai da decenni la storia musicale del nostro territorio. Quindi un'occasione di valorizzazione della creatività giovanile, devo dire che in questi anni con grande sorpresa abbiamo visto quanta creatività musicale ci sia, quanti gruppi e quanta voglia di partecipare. In alcuni casi alcuni gruppi hanno avuto anche un discreto successo e l'idea è sempre la stessa, coltivare un sogno e consentire ai ragazzi, se hanno le capacità ma anche le occasioni per poterlo fare, di fare della musica, chissà, anche la propria scelta di vita.